Faccio parte del centro studi di Confrofessioni e noi cerchiamo di analizzare i provvedimenti legislativi che vengono emanati da Governo e dal Parlamento e analizzarli per capire quali sono le possibili tematiche che vanno a impattare sui libri professionisti, quindi cercare di prevenire le possibili norme che vanno a danneggiarle o possibili opportunità per i libri professionisti. Quindi noi rappresentando come Confrofessioni e come parte sociale i libri professionisti tutti partecipiamo ai tavoli ministeriali, alle cabine di regia e partecipiamo spesso anche alle audizioni parlamentari quindi portando il punto di vista dei libri professionisti sui provvedimenti e suggerendo possibili miglioramenti ai provvedimenti legislativi. Questo è un po' il nostro focus, è quello che cerchiamo di fare all'interno della nostra struttura abbiamo ovviamente anche una sezione dedicata al contratto collettivo nazionale di cui Confrofessioni è firmataria supportiamo anche chiunque faccia richiesta sull'applicazione del contratto collettivo nazionale quindi c'è una parte del centro studi che si occupa di questo e quindi di spiegare il contratto collettivo e tutti gli istituti giuridici che ne fanno parte.